Oh ragazzi, belli siete, belli! Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati qua nella casa del pane e ballon dal vostro amico Naic, nuovo video per voi qua, un video un pochettino, cerco di fare un video un po' allegro per tirare sul morale un po' di milanisti che vedo ancora un po' troppo abbacchiati sul web, in tv, insomma, questa eliminazione dalla Champions League li ha lasciati, ma su, su col morale, ragazzi, state calmi, state calmi, fino a qualche giorno fa si diceva, ma sì, usciamo, dedichiamoci al campionato e poi dopo invece quando esci tutti, calma, calma ragazzi, ma io sono uguale, perché io ero il primo a dire, no, no, mogliamo, mogliamo, tanto non è roba per noi, dobbiamo dedicarci al campionato, poi dopo a Milan-Liverpool mi sono vestito da guerriero, ero lì pronto ad andare a fare la guerra, perché ragazzi, è così, quando gioca la tua squadra del cuore, quando gioca il Milan in queste partite la carica, l'adrenalina a mille, insomma, poi dopo alla fine la vuoi vincere. Detto questo, si è perso, ma io devo essere sincero, non ho visto neanche una Champions League brutta del Milan, dai, bisogna cercare di fare un'analisi, la nostra Champions League dopo sette anni è stata una Champions League di tutto rispetto, nel senso che col girone che ci è capitato avrei messo la firma io ad arrivare all'ultima giornata e giocarti ancora la qualificazione, perché ragazzi, se avessimo vinto e con qualche gol di scarto saremmo comunque passati, cioè arrivare l'ultima giornata e giocarti la qualificazione in questo girone era tanta roba, ricordiamoci che l'Atletico Madrid e il Porto l'anno scorso che aveva eliminato la Juve fanno la Champions League da sei, sette, otto anni di fila, oramai sono sempre dentro, sono squadre che oramai sono impiantate in questa competizione da anni, hanno più esperienza, noi siamo una squadra giovane, non è che soltanto il nome va avanti in Champions League, è vero che il Milan ha un blasone esagerato in questa competizione, però i giocatori, a parte 2-3, gli altri non avevano mai partecipato a una competizione del genere, non avevano l'esperienza, perciò è tutto bagaglio di esperienza che uno accumula ed è buono, perciò ho detto questo, ragazzi, io cerco di guardare il lato positivo, andiamo avanti, adesso siamo liberi, vedo anche, vedo anche, ma vi ho salutato ragazzi, sì, 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 vi ho salutato, però mi sono dimenticato di dirvi, di iscrivervi al canale, vabbè dai, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, rimanete sempre aggiornati di tutti i miei nuovi contenuti, ragazzi fatelo e mettetemi un bel like al video, chiusa la parentesi, l'ho detto al volo così, me l'ho perso un pochettino, stavo dicendo, cos'è che stavo dicendo, stavo dicendo, vedo anche tanti tifosi che dicono, no, adesso bisogna assolutissimamente comprare questo piuttosto che quell'altro, Chiesa è infortunato, siamo senza centrale, l'attaccante non si può solo con i brevi, calma ragazzi, calma, bisogna, da gennaio in poi, siamo con una competizione e qualche partita di Coppa Italia, vedremo, che cosa vuoi andare a comprare? Cioè io non credo che facciano spese folli, voglio dire, è vero che Chiara ha finito la stagione, ma hai una competizione in meno, hai una partita alla settimana, una partita alla settimana con Tomori e Romagnoli, Gabbia ed eventualmente Calullu che lo puoi spostare in mezzo, puoi farla una partita alla settimana, poi ragazzi se ti si infortuniano tre giocatori in un reparto solo, anche se c'hai una partita alla settimana diventa difficile, però quello può succedere anche se compri un altro centrale, cioè ha detto questo, non penso ci siano grandi occasioni a gennaio, poi magari mi smentiranno, ma io dubito che il Milan spenda dei soldi a gennaio per fare una scommessa o quant'altro, o vai sul sicuro, però a questo punto le operazioni di mercato, diciamo belle sostanziose, dove vai sul sicuro si fanno sempre in estate, a gennaio è sempre un mercato un po' di riparazione, è vero che te ti sei infortunato Kier, ma dovresti riparare, ma in realtà avendo una competizione in meno, secondo me puoi andare avanti così, idem per le punte, è vero, in questo momento c'è solo Ibrahimovic, Pellegri sei infortunato adesso, però vabbè anche quando era sano era come se fosse infortunato, però adesso rientrano Rebic, Giroud, insomma ragazzi poi dopo finirà il malocchio, non è che puoi andare avanti tutta la vita col malocchio addosso che ti si infortuna un giocatore ogni partita, prima o poi finisce, tanto le cose sono così, sono a catena, sono a catena, quando ne arriva una e una dietro l'altra, poi dopo quando finisce inizia ad andare tutto bene, è così, è così, ciò arriverà il momento buono anche per noi, e speriamo che arrivi nel momento giusto della stagione, perché se dovesse arrivare nel momento giusto della stagione, cioè nel girone di ritorno e comunque con tutta una serie di problematiche che abbiamo avuto nel girone da data, siamo là, siamo primi in classifica, ragazzi, vedete voi, vedete voi, io non penso ci saranno grandi acquisti a gennaio, non penso, e io penso, anzi, io starei in bello schiscio a gennaio, non spenderei soldi, anzi, anzi, se c'è anche un minimo, lo terrei da parte per poi magari ad agosto picchiare su un gran bell'acquisto, e a me piacerebbe veramente tanto, tanto una gran bella punta a Evlaovic, perché è figa, ragazzi, lo so che è un sogno e magari rimarrà tale, però è tanta, 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 tanta roba. Va bene, va bene, ragazzi, allora dobbiamo parlare anche della giornata di oggi, di Europa League, perché oggi c'è Europa League e c'è anche l'ultima partita di Champions League dell'Atalanta, che è stata rimandata per via della neve ieri, perciò peccato, gioca alle 19, contemporanea con il Napoli, non sarei voluto vedere il Napoli, perché la partita del Napoli è importante, il Napoli oramai non può più pensare di non, di lasciar stare, perché così almeno rimane solo conciliato il campionato, tanto se arrivi terzo vai in Conference League, perciò comunque un turno lo devi fare, da quello che ho capito, e a sto punto allora giocatela alla grande e rimani in Europa League, davanti al tuo pubblico stasera devi vincere, vinci, rimani in Europa e via. Sì, magari non so se riuscirà a conquistare il primo posto, poi in Europa League il secondo posto incontrerai la terza della Champions, vabbè, però poco male, tanto comunque oramai secondo me i sedicesimi te li devi sparare, dubito che arrivi ultimo il Napoli, perciò sarà una bella partita, vedrò, me la guarderò sia uno che l'altro, perché comunque c'è l'Atalanta, ragazzi, l'Atalanta ha in mano il passaggio del turno, non deve stare a guardare i risultati di nessun altro, oltretutto hanno anche già giocato, però deve vincere lei, vince e va avanti, basta, e ha tutte le potenzialità per poterlo fare, davanti al proprio pubblico, insomma, speriamo che il campo tenga, nel senso che oggi non danno neve, però non voglio capire come sarà il campo oggi, ghiacciato o non ghiacciato, vedremo, vedremo, ragazzi, saranno due belle partite da seguire, che poi commenteremo insieme appunto stasera, poi c'è la Lazio e la Roma, vabbè, loro oramai sono già qualificate, io penso che si giochino il primo posto per non incontrare la terza dell'Europa League per la Roma e la terza della Champions League per la Lazio, la Lazio gioca con Galatasaray, se vince, se dovesse vincere va a pari punti, poi lì ci sarà, penso, da dare lo scontro diretto, non so come funzioni, e idem per la Roma, no, no, forse la Roma mi sa che prima non riesce più ad arrivare, adesso non ho sotto mano le classifico, ma insomma, comunque due partite un po' meno importanti delle altre due italiane, va bene, ragazzi, perciò, niente, detto questo, vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento di giovedì, ricordiamoci che giovedì è sempre quella giornata un po' che ti inizia a far vedere, è vero che questa settimana è stato un doppio weekend, perché noi qua al Nord con Sant'Ambrogio e l'Immacolata abbiamo fatto sabato e domenica, lunedì, e poi martedì e mercoledì, ora giovedì e venerdì, poi c'è ancora sabato e domenica, ma se fossero sempre così le settimane, che sciallo, così dovrebbe essere la vita, ragazzi, si lavora troppo, si lavora troppo, se su sette giorni ne lavori cinque e cinque barra sei, tanti lavorano sette su sette, però fai cinque barra sei e uno riposi, secondo me bisognerebbe lavorare un giorno sì, un giorno no, o se no tre giorni sì e tre giorni no, cioè, la vita è troppo breve per dedicarla sempre solo al lavoro, ragazzi, va bene, detta quest'ultima stupidaggine, stupidata volevo dire, vi auguro una buona giornata, ci vediamo stasera e come dico sempre io ragazzi, mettete un bel like se vi è piaciuto il video, quello mi raccomando, e iscrivetevi al canale, e come dico sempre io ragazzi, ciao!